Giandri, mocchio all'Ajax, è ufficiale. Il difensore di 16 anni lascia il Gen per trasferirsi ad Amsterdam e unirsi alla corte del neo allenatore Francesco Farioli. Nella scorsa stagione il giovanissimo centrale ha giocato nella massima squadra giovanile, nel club belga, debutando poi in prima squadra. Secondo gli accordi presi, il ragazzo si unirà alla squadra dell'Under 23 dell'Ajax. Mocchio ha firmato un contratto con inizio ufficiale 1 luglio 2024 e dalla durata di tre anni fino al 30 giugno 2027 Il trasferimento di Mocchio è soggetto ad alcune formalità. Anche il direttore tecnico dei lancieri, Alex Croen, ha voluto dare il benvenuto al preciote classe 2008. Siamo felici che Giondry abbia firmato qui. È un grande talento e c'era molto interesse per lui. I nostri osservatori in Belgio lo seguivano da tempo. Insieme abbiamo fatto di tutto per portarlo all'Ajax. Abbiamo parlato della fiducia reciproca e in futuro meraviglioso e una volta esbellate le ultime formalità su unità all'Ajax. Uno nella preparazione della nuova stagione.